arp 556 3.0 oggi salutiamo l'amico pietro che ha voluto questo bellissimo custom da 32 bb al secondo un custom fatto su misura ingranaggi potency come al solito abbiamo il gearbox quello nuovo g e g dove il centrale va tornito per poter far sì che possa entrare e girare correttamente al suo interno non si rimane che vedere come tira e sentire come suona come sempre ragazzi un altro bellissimo gioiello arp 556 replica sempre più richiesta per le sue dimensioni e per la sua potenzialità ragazzi come sempre ci vediamo al prossimo custom ciao ciao